E' iniziata nel pieno rispetto del cronogramma l'ultima parte dei lavori per costruire il quarto lotto della variante della strada regionale 429 da Dogana nel comune di Castelfiorentino alla rotatoria sulla via Volterrana in località Casenuove, frazione dei Gambassi Terme. Al contempo ha preso il via la realizzazione di un nuovo viadotto in acciaio sul rio Petroso. Nelle immagini vedete il sopralluogo effettuato dall'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli sul cantiere, aperto il 2 settembre scorso. Investimento previsto 15 milioni e 700 mila euro. Abbiamo iniziato a completare lo strato di usura della strada. Come opere d'arte attraverseremo il ponte sul rio Morto e tre gallerie che già sono state collaudate, mentre invece vedremo alle sue battute iniziali la realizzazione del ponte sul rio Petroso, che è l'ultima opera d'arte che riguarda il quarto lotto. Sono stati messi in atto anche lavori supplementari per mitigare il rischio idraulico. Un lavoro anche questo piuttosto complesso perché tre gallerie artificiali, un viadotto sul rio Petroso. Quindi direi che tutto ha marciato così come da cronoprogramma e a questo punto nel momento in cui sarà realizzata la rotatoria della strada volterrana e fatto questo collegamento sino a Dogana direi che la decima legislatura regionale è stata quella che ha realizzato la 429.